... Arrestato dalla polizia un 39enne di Atri per maltrattamenti in famiglia nei confronti del figlio e dell'anziana madre. È morto Donato Camaioni, il 47enne di Nepezzano, precipitato in un burrone nel giorno di Ferragosto per salvare il figlio. Operazione dei carabinieri di Peneto e Giulianova. Arrestati due giovani con l'accusa di detenzione a fine dispaccio di sostanze stupefacenti. Un parcheggio a pagamento che è in realtà gratuito. Succede a Giulianova ma gli automobilisti, non sapendolo, continuano a pagare il ticket. Alberghi pieni sulla costa per tutto il mese di agosto. Un sospiro di sollievo per il turismo terramano in quest'ultimo scorcio d'estate. Il mare di Alba Adriatica è tornato balneabile ma il sindaco Franchino Giovannelli chiede l'impegno degli enti per il risanamento del torrente vibrata. Domani sera in occasione della Notte Bianca di Giulianova sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite dalle 21 alle 24 grazie al camper rosa. Il terramo domani pomeriggio in campo contro la primavera del Pescara. Assenti Chauvet, Petrella, Bellucci e Berardino. Iniziata ieri la preparazione della tecnonettronica. Il 3 settembre sarà invece la volta dell'HC Terramo 2002. Buonasera e benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale. Buonasera, apertura dedicata alla cronaca. Un uomo di 39 anni di Atri è stato arrestato questo pomeriggio dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti del figlio 15enne dell'anziana madre. La denuncia era stata proprio fatta dal figlio alla polizia del commissariato di Atri a seguito di un incidente stradale lo scorso 8 agosto. Il ragazzo era stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Atriano proprio per le percosse del genitore adirato per l'incidente. L'uomo non era nuovo a fatti di violenza nei confronti del figlio e della madre. La stessa nonna del ragazzo aveva confermato già una volta le circostanze. Oggi il GIP del Tribunale di Terramo, su richiesta del sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare per l'uomo che è stato arrestato dai poliziotti e rinchiuso nel carcere di Castronio. Ed è morto Donato Camaioni, il 47enne di Nepezzano che a ferragosto, lo ricorderete, è caduto nei pressi di Fosso dell'Acero a Cesacastina di Crognaleto nella zona della Valle di Cento Fonti. È morto perché sono stati troppo gravi traumi riportati dall'incidente, ma vediamo il servizio. Non ce l'ha fatta Donato Camaioni, il 47enne di Nepezzano, in coma da ferragosto dopo essere precipitato in un dirupo nel tentativo di recuperare il figlio di sette anni che era scivolato in un ruscello dal sentiero che stavano percorrendo a cento fonti di Cesacastina nel comune di Crognaleto. L'uomo, dopo essere stato dichiarato clinicamente morto ieri sera, nel primo pomeriggio di oggi è spirato. Camaioni aveva riportato gravissime fratture al bacino e alle gambe, ma la cosa più preoccupante era il gravissimo trauma cranico che gli aveva provocato un vasto ematoma al cervello che i medici dell'equip di neurochirurgia di Teramo avevano rimosso con un delicato intervento in sala operatoria. Purtroppo però i guasti provocati dalla caduta sono stati irreversibili. L'incidente in montagna si è verificato nel giorno di ferragosto nella zona maledetta di cento fonti di Cesacastina di Crognaleto, dove in passato sono stati molti e frequenti gli incidenti simili. L'ultimo, in ordine di tempo, ha coinvolto un bambino di dieci anni di Cremona. L'uomo è caduto per tentare di salvare il figlio detto di sette anni, che era scivolato prima di lui finendo in un corso d'acqua sottostante. Ha perso l'equilibrio ed è finito nel vuoto, dopo aver compiuto un salto di diverse decine di metri finendo su uno spiazzo roccioso. Immediatamente soccorso assieme al figlio, dapprima da altri turisti e poi dal personale del 118, è stato trasferito con urgenza all'ospedale Mazzini con l'eli soccorso. Il figlio se l'è cavata con una prognosi di pochi giorni, questo grazie all'estremo sacrificio del padre che ha dato la vita per lui. Ancora cronaca, i carabinieri di Pineto e Giulianova hanno effettuato un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di due giovani con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. Il servizio. Due arresti a distanza di poche ore l'uno dall'altro ed in entrambi i casi l'accusa è la stessa, detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati complessivamente 72 grammi di hashish, 11 di marijuana, 2 bilancini di precisione, 5 piante di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre ad 800 euro in contanti, provento probabilmente dell'attività di spaccio. La foto si riferisce al materiale sequestrato ad uno dei due giovani. Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Pineto, coordinati dal luogotenente Gianni Mincone, hanno arrestato Alberto Di Pancrazio, 27 anni, di Atri. Il giovane era stato fermato per un normale controllo ad un posto di blocco, ad insospettire ai militari l'atteggiamento del 27enne, che ad un certo punto avrebbe manifestato nervosismo. A quel punto i carabinieri hanno deciso di andare oltre nei controlli, procedendo anche con una perquisizione domiciliare. A casa del ragazzo gli uomini dell'arma hanno rinvenuto 28 grammi di hashish, 11 di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, la somma di 450 euro. Il giovane, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, ha ottenuto gli arresti domiciliari. All'alba di oggi, invece, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giulianova hanno arrestato un giovane di Castellalto, si tratta di Piero Scacchioli, di 20 anni, fermato sul lungomare giuliese. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish. Anche in questo caso i militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti e nel corso della successiva perquisizione domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di altri 41 grammi della stessa sostanza. Un bilancino di precisione, 5 piantine di marijuana e la somma contante di 250 euro, frutto, secondo gli investigatori, dell'attività di spaccio. Anche Scacchioli ha ottenuto gli arresti domiciliari. È un incendio abbastanza esteso, si è sviluppato oggi nei pressi di Bellante, subito dopo la rotonda e del centro commerciale. I vigili del fuoco sono intervenuti subito sul posto, nelle campagne vicine, sia con uomini a terra sia con l'utilizzo di un elicottero. Sul posto anche la forestale che dopo ha dato banforte anche con il suo elicottero per domare alla fine le fiamme. Cambiamo decisamente argomento e trattiamo adesso qualcosa di più attinente a quella che è la stagione, perché ovviamente siamo nella settimana di ferragosto, alberghi pieni sulla costa per tutto il mese di agosto. Tira così un sospiro di sollievo il turismo teramano che a luglio non ha fatto registrare grandi numeri ma che ad agosto sembra potersi riprendere, soprattutto in questo ultimo scorcio d'estate. Ma i problemi legati ai servizi restano e vanno affrontati in un'ottica futura. Ascoltiamo il presidente di Federalberghi, Gianmarco Giovannelli. Giovannelli, siamo a cavallo di ferragosto. La stagione estiva è nata con parecchie incertezze, perlomeno in questa fase fa registrare sulla costa, per quanto riguarda l'istituto del alberghiere, il tutto esaurito. Ma insomma, grazie a Dio, abbiamo una stagione molto complicata. Ci sono dei dati che andranno analizzati con molta attenzione. Avremo dei fatturati in crollo. Questo ci pone a dover poi cominciare a programmare veramente l'economia turistica di questa regione, di questa provincia, con gli addetti ai lavori insieme agli operatori. Un grande percorso è stato iniziato, una nuova governanza sta lavorando. Teramo, nel panorama regionale, è quella provincia che ancora oggi ci dà la possibilità di riconfermare un aspiraglio di ottimismo. Chiaramente con dei dati ancora discutibili, ma la Val Vibrata e comunque la provincia di Teramo hanno sicuramente quel plus in più che sono anche risultato di investimenti pluriennali e anche di una grande capacità di credere in questo segmento economico. Uno degli aspetti che forse negli ultimi anni si è un po' più concretizzato, un avvio di agosto un po' soft, poi dal 10 in poi fino alla fine del mese c'è richiesta? Insomma diciamo che un po' soft fino al 15. Probabilmente alla fine di agosto e ai primi di settembre ci aiuteranno a superare e anche a recuperare una parte di percentuali perse. È chiaro che il grande non potremmo mai recuperarlo. Siamo ad Alba Adriatica, il divieto di balneazione ormai è solo un ricordo ma il danno d'immagine purtroppo resta e il sindaco Franchino Giovannelli è ancora contrariato per quanto è avvenuto invita tutti gli enti a prendere provvedimenti per il risanamento ambientale del Vibrata. Vediamo il servizio. Sindaco, il divieto di balneazione nella zona nord è un ricordo che ovviamente in parte ha macchiato questa stagione turistica, adesso cosa accade? Diciamo come dicevi tu ha macchiato e questo veramente con grande dispiacere, devo dire anche con grande amarezza. Abbiamo avuto in quel tratto di spiaggia per 300-400 metri dalla foce del Vibrata una sola analisi che è quella dell'Eschiericacoli che era superiore ai limiti di norma. Questo fenomeno è durato pochi giorni, tre giorni e poi le cose sono tornate normale. Ma il danno effettuato, diciamo anche come immagine da questo punto di vista, è un danno enorme. Noi stessi siamo preoccupati e devo dire io stesso sono molto arrabbiato perché di fronte a tutto quello che ho detto prima, a tutta una serie di circostanze che il Comune mette in opera, poi ti ritrovi un danno mediatico di una rilevanza notevole che non si riesce neanche a cancellare, benché siano rimaste solo tre giorni di vieti di balneazione. A questo punto veramente noi chiediamo un intervento radicale e definitivo. Non è possibile, al di là delle cause accidentali o personali, di coloro che hanno o sversato o comunque ci sono delle condizioni, devo dire a questo punto, strutturali per eliminare questo problema. Devo dire ad onor del vero che in questi giorni in stretto contatto con la Ruzzoreti mi sono fatto mandare tutte le analisi e i prelievi fatte al depuratore e ho una lettera ufficiale dalla Ruzzoreti che conferma che comunque il depuratore sta funzionando in maniera buona o ottima da questo punto di vista. E adesso una storia che ha quasi del paradossale, se non del comico, perché a Giulianova c'è un parcheggio che era a pagamento fino a circa un anno fa. Ebbene, da allora è scaduta la convenzione, non è più a pagamento, però coloro che vanno a parcheggiare lì e non sanno che quel parcheggio non è più a pagamento pagano lo stesso il ticket perché i parchimetri sono ancora funzionanti. Luca Zarroli. Parcheggio libero o parcheggio a pagamento? E' questo il dubbio amletico di quest'area, questa ampia area dedicata alla sosta nella zona retrostante all'ex colonia Rosa Maltonia Giulianova. Questo parcheggio è completamente vuoto in questo giorno d'estate mentre tutto attorno ci sono varie auto parcheggiate. Il motivo è presto spiegato. Qui, insomma, fino allo scorso anno erano attive le strisce blu, sia la segnaletica verticale e orizzontale. continua a indicare proprio il fatto che bisogna pagare la sosta per poter parcheggiare e in funzione anche il parchimetro. In realtà Comune e la società concessionaria dei parcheggi nella rivisitazione fatta nei mesi scorsi ha eliminato questa zona, solo che in funzione tutto, sia lo stesso parchimetro e sia la segnaletica che non è stata rimossa. Di conseguenza gli automobilisti, prima di parcheggiare in questa zona, pensando che sia pagamento, ovviamente cercano altri stalli liberi. In realtà la sosta qui è gratuita, nonostante, come detto, siano in funzione sia i parchimetri che le strisce blu. Questa ovviamente non è soltanto l'unica zona che si presta a questo equivoco, c'è anche un'area sul lungomare, quella più ridossa alla zona portuale, dove quest'anno il parcheggio è libero a dispetto dell'anno precedente, ma gli equivoci sono gli stessi. Avete visto il biglietto come è uscito? Esatto. Torniamo a parlare del delitto dei coniugi Masi, delitto che potrebbe essere stato un errore di mafia, lo sostiene infatti l'ex parlamentare Pio Rapagnà. Vediamo. Torna all'attenzione del Ministro della Giustizia e della Commissione parlamentare antimafia il caso irrisolto dell'omicidio dei coniugi Libero Masi ed Emanuela Kelly, entrambi i 57 anni, avvenuto il 2 giugno 2005 a Nereto. L'iniziativa è dell'ex parlamentare Pio Rapagnà. Questi chiede di riaprire le indagini per verificare la possibilità che gli assassini, mai trovati, possano essere arrivati in casa della coppia alla ricerca dei documenti rinvenuti a Palermo il 17 febbraio precedente, in casa di Massimo Ciancimino. E' ciò per effetto di uno scambio di persona determinato da uguali cognomi tra le vittime e due persone che hanno avuto un ruolo nei fatti venuti alla luce, spiega Rapagnà. Nell'ambito del processo mori Ciancimino, in svolgimento a Palermo, e portato avanti, tra gli altri, dal pubblico ministero Antonio Ingroia. Rapagnà spiega di chiedere questa verifica perché esistono due personaggi che, per il loro cognome, potrebbero intrecciarsi con questa vicenda di Nereto. Il maresciallo dei carabinieri Saverio Masi, il quale, nell'interrogatorio condotto dai PM Antonio Ingroia e Antonino Di Matteo, avrebbe riferito di essere stato informato del ritrovamento il 17 febbraio 2005 del papello, all'interno del quale ci sarebbero state scritte le richieste allo Stato da parte del boss Totorriina, non sequestrato ma fotocopiato per ordini dei superiori. La signora Giovanna Maggiani-Chelli, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage dei Giorgofoli di Firenze, avvenuta per mano della mafia il 27 maggio 1993. Restiamo in Val Vibrata, però spostiamoci a Tortoreto, perché c'è un atto, ci sono atti ripetuti di inciviltà, la strada panoramica a Tortoreto è diventata praticamente una discarica a cielo aperto, persone, dallo scarso senso civico per non dire nullo, continuano ad abbandonare ai margini della carreggiata rifiuti di ogni genere. Vediamo. Più che la vista panoramica, chi percorre questa strada può farsi, come dire, un'idea panoramica dei rifiuti. Siamo a Tortoreto, proprio sotto la A14, quella che si chiama la strada panoramica, percorso alternativo, soprattutto nel periodo estivo, per chi vuole evitare le code sulla Statale 16. Ebbene, qui, come di consueto, continuano a proliferare le discariche abusive, qui proprio sulla strada c'è di tutto, da materassi, WC, scarti di lavorazioni edili, anche vecchie poltrone, vecchi mobili e quindi anche altri tipi di rifiuti. Come dire, chi percorre questa strada, soprattutto in orari serali, preferisce abbandonare rifiuti sulla strada alimentando quella che è una discarica abusiva. Ovviamente l'inciviltà non ha confini e in questa zona, che è sì di passaggio, ma anche in apparenza poco frequentato, ovviamente è terreno fertile per chi decide di abbandonare i rifiuti in maniera incondizionata. Sicuramente non è un biglietto da visita, soprattutto in questo periodo, come dicevamo, questa strada è percorsa comunque da chi vuole evitare la Statale 16 in alcuni momenti della giornata. e quindi di conseguenza non è un bel vedere. Ovviamente questa zona dovrà essere bonificata anche se in passato di fronte a bonifiche effettuate dalla Poliservice, società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti. Dopo un po' di tempo, rifiuti di ogni genere continuano ad essere ammassati ai bordi della strada. Parliamo adesso del grande caldo, però in relazione all'allarme siccità che sta colpendo anche l'Abruzzo e l'assessore regionale alle politiche agricole Mauro Febbo ha già segnalato la situazione al governo e si proverà a richiedere lo stato di calamità naturale. Vediamo. Stiamo attivando in tutte le sedi opportune per intervenire in maniera tempestiva in modo da arginare per quanto possibile i disagi al settore agricolo legati al fenomeno della siccità. Lo afferma l'assessore alle politiche agricole Mauro Febbo che vuole lanciare un messaggio di attenzione e vicinanza ai tanti agricoltori che si apprestano a fare conti con le pesanti conseguenze del gran caldo di questi mesi. La situazione non è certo facile, considerano anche le previsioni meteorologiche che almeno per i prossimi giorni non ci danno notizie incoraggianti, ma cerchiamo di mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione. Per il momento, sottolinea Febbo, posso dire che anche il caso abruzzese è all'attenzione degli uffici governativi, ai quali sono state richieste informazioni dettagliate per avere un quadro completo sulle zone interessate dal fenomeno climatico. Intanto c'è da dire, annuncia l'assessore alle politiche agricole, che il ministro Catania si è messo al lavoro, visto il perdurare della siccità per accelerare le procedure volte alla dichiarazione dello stato di calamità naturale per far fronte ai danni arrecati al settore agricolo. La dichiarazione dello stato di calamità naturale, infatti, rappresenta la condizione necessaria per consentire l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale. Per fronteggiare la crisi di liquidità conseguente alla perdita di produzione dovuta alla siccità, il ministro delle politiche agricole ha anche avviato le procedure per ottenere dalla Commissione europea l'autorizzazione all'erogazione degli anticipi PAC 2012 a partire dal prossimo 16 ottobre, accorciando quindi di circa 50 giorni i tempi di erogazione previsti dalle scadenze comunitarie. Il perdurare della siccità accompagnata dal gran caldo ha interessato tutte le province e nella Marsica, che è una delle zone più colpite, si è registrato un calo della produzione del 30-40%. Per il grano sembra che non ci saranno problemi con gli agricoltori abruzzesi, che sembrerebbero in apprezzioni però per le sorte degli olivi e delle viti. Al momento, chiarisce Febbo, appare difficile fare una stima degli eventuali effetti negativi che si avranno durante la vendemmia, in particolare sulla quantità. Molti produttori hanno anticipato la raccolta dell'uva, che quest'anno, in attesa di avere dei dati quantitativi certi, dovrebbe regalarci un vino di buona qualità, soprattutto per quanto riguarda i rossi. domani sera, come è noto a Giulianova, è in programma la Notte Bianca. Ebbene, sarà possibile in questa occasione effettuare delle visite senologiche gratuite dagli ore 21 alle ore 24 per tutte le donne che partecipano ovviamente alla Notte Bianca e ci sarà questa possibilità grazie al camper rosa. Vediamo. Non solo musica, spettacoli e divertimento alla Notte Bianca di Giulianova, ci sarà anche un momento dedicato al percorso senologico. Sì, l'AIRC ci ha chiesto di essere presenti con il nostro camper rosa e con il percorso senologico e quindi sabato 18 saremo a Giulianova, in una delle piazze principali della città per promuovere il percorso senologico, per fare prevenzione sul cancro della mammella che è una malattia che purtroppo colpisce tante donne. Quindi saremo presenti lì, daremo informazioni, faremo anche delle visite, anche delle ecografie, ci sarà anche l'opportunità così anche per chi magari ha deciso di andare a giocare per divertirsi ma di fare anche un attimino qualcosa di diverso. Noi abbiamo aderito molto favorevolmente, queste occasioni sono importanti insomma per fare la prevenzione, di prevenzione non se ne fa mai troppa, mai abbastanza, non ce n'è mai abbastanza e ritengo che di prevenzione al cancro al seno sia particolarmente importante, ripeto perché è la malattia più frequente per quanto riguarda le malattie tumurali che colpisce le donne, quindi insomma bisogna spiegare anche quello che si deve fare e come si deve fare. Quindi ci sarà anche, distribuiremo anche dei Deplian dove si spiega un po' quello che è il percorso e cosa deve fare la donna. E anche quest'anno il WWF si occupa di attività di recupero degli animali in difficoltà, vediamo il servizio. Come ogni anno con l'arrivo del caldo, il WWF di Teramo è impegnato nel recupero di rondoni in difficoltà. Da maggio in poi tanti cittadini si sono rivolti all'associazione portando rondoni e altri uccelli, sia piccoli caduti dai nidi che adulti stremati per l'alta temperatura. L'attività quest'anno è partita un po' in ritardo, dichiara Donatella Policreti del WWF Teramo, per poi trasformarsi in vera e propria emergenza con il caldo già dai primi di giugno. Praticamente abbiamo avuto quasi una chiamata al giorno e diversamente che dagli anni passati molti degli uccelli rinvenuti in terra sono adulti, cosa che di solito non accade mai in questo periodo. Evidentemente il caldo è stato insopportabile anche per gli animali. Abbiamo dovuto prenderci cura di decine di animali, principalmente rondoni, ma anche balestrucci, merli e gazze. Tutti sono stati accuditi per il tempo strettamente necessario e subito dopo liberati e fortunatamente quest'anno abbiamo avuto un recupero del 100% e tutti gli uccelli che ci sono stati portati sono tornati a volare liberi. Visto che l'attività svolta gratuitamente dai volontari del WWF si ripete ormai da tempo, di anno in anno aumentano i cittadini che, trovando animali in difficoltà, chiamano l'associazione. Noi invitiamo sempre a rivolgersi ai vari enti competenti, in particolare quando ci sono patologie gravi o specie più rare, continua Donatella Policreti. Quest'anno ci sono stati portati animali, oltre che da Teramo, anche da altri centri vicini come Bellante, Castellalto e Giulianova. E se a Giulianova domani sera ci sarà la Notte Bianca, a Teramo ci sarà invece l'elezione di Miss Abruzzo. A partire dalle ore 22 a Piazza Martiri, sulla passerella che sarà allestita, sfideranno circa 25 ragazze provenienti da selezioni già svolte negli altri comuni delle quattro province abruzzesi. Le 25 ragazze saranno giudicate da una commissione nominata dall'organizzazione e la vincitrice sarà proclamata Miss Abruzzo 2012 e avrà diritto di partecipare direttamente alla finale di Miss Italia a Montecatini Terme. La madrina della serata a Teramana sarà Stefania Bivone, Miss Italia dello scorso anno, dunque Miss Italia uscente. Continuiamo a parlare di eventi, specialità enogastronomiche, eventi culturali e tanto divertimento. Questo caratterizza le affosse serate di mezza estate in provincia di Termo. Facciamo il punto con questo servizio. Un agosto tutto da gustare per gli amanti della buona tavola e non solo. Fra divertimento, cultura e specialità enogastronomiche, innumerevoli sono infatti le manifestazioni che caratterizzano queste affose serate di mezza estate. Taglierà proprio stasera il traguardo delle 41 candeline, la sagra della porchetta di Campli, consueto appuntamento con una delle specialità più amate e conosciute d'Italia, che delizierà i palati dei partecipanti fino al 21 del mese. Per chi invece preferisce trascorrere una serata in allegria, al via a Sant'Omero la ventunesima edizione del Festival Internazionale del Teatro Comico. A inaugurare l'evento ci penserà Raul Cremona, artista noto per aver partecipato a Zelig e Zelig Circus. La Kermess si concluderà il prossimo 20 agosto. Ma per qualcosa che inizia c'è sempre qualcos'altro che finisce. Volge infatti al termine la 43esima edizione della sagra enogastronomica di Torano Nuovo, la più antica e visitata ad Abruzzo. La manifestazione si concluderà proprio stasera nel suggestivo e ristrutturato Borgo Vibratiano. E sempre in tema di buona tavola prosegue con successo la sagra della porchetta di Colledara, giunta ormai all'undicesimo anno, che si concluderà domenica prossima. Ma spesso accade che le eccellenze del gusto del nostro territorio incontrino la cultura. Ne è un esempio la serata organizzata nell'ambito della Kermess Castelbasso Civitella Cultura Contemporanea nei Borghi, che oltre al confronto interdisciplinare fra saperi, proporrà stasera nella piazzetta del Borgo Medievale una cena all'aperto a cura dello chef Domenica Vagnarelli. E dalle sagre passiamo invece alla pace e alla tranquillità dei boschi perché otto cuccioli di orso sono stati avvistati nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise nella prima sessione di osservazione e censimento delle femmine di orso con piccoli avviata alcuni giorni fa dal parco nell'ambito del progetto Life Arctos. Secondo il commissario del Parco Giuseppe Rossi si annuncia un'annata eccezionale per le nascite che induce all'ottimismo circa la ripresa della popolazione di orso marsicano, anche considerando il minimo storico registrato nel 2011 con soli tre cuccioli avvistati. Altre osservazioni specializzate si susseguiranno fino a metà settembre. Ci sono diverse scuole di pensiero sul nome dell'anticiclone africano colpevole del Gran Caldo in questi giorni, c'è chi lo chiama Caligola, chi lo chiama Colosso del deserto, fatto sta che il caldo rimane e noi adesso andiamo a vedere le previsioni per domani con Meteoteramo.it Previsioni per domani in provincia di Teramo. Giornata caratterizzata da cielo sereno su gran parte del territorio provinciale. Nelle ore pomeridiane addensamenti cumuliformi in prossimità della dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Temperature stazionarie, massime comprese tra 30 e 33 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 29 e 32 gradi sulle coste. Venti deboli o moderati settentrionali, adriatico poco mosso. Il calcio in apertura della pagina sportiva potrebbe essere l'ultima amichevole di precampionato, quella che il Teramo giocherà domani pomeriggio a partire dalle ore 17 allo stadio comunale di Piano Daccio contro la primavera del Pescara, perché il 26 inizierà poi la Coppa Italia e il 2 settembre il campionato. Dunque, ultimo test probante per la formazione di Roberto Cappellacci, che domani però dovrà fare a meno di Chauvet, Petrella, Berardino e Bellucci. Vediamo comunque il servizio. Una sfida da fratelli contro, quella che domani andrà in scena al nuovo stadio di Piano Daccio. Andrea Bucchi, alle 17.30 con la maglia del Teramo, sfiderà infatti il fratello, Cristian Bucchi, sulla panchina della primavera del Pescara. Sarà uno degli ultimi banchi di prova per il Teramo impegnato il 26 agosto nel primo impegno ufficiale, vale a dire la Coppa Italia. Se l'avversaria sarà poi l'Aquila o Foligno, sarà la gara del 19 agosto tra le due squadre a deciderlo. Chi perde infatti affronterà i biancorossi di Mister Cappellacci. Per la sfida di domani pomeriggio mancheranno ancora Bellucci, Chauvet e Petrella, alle prese con vari problemi muscolari che li hanno tenuti fermi anche nella sfida di una settimana fa contro il San Nicolò. Non ci sarà neanche Riccardo Berardino. Il centrocampista ex Chieti non è ancora riuscito a scendere in campo con la maglia del Teramo a causa del periodo di riabilitazione da affrontare dopo l'intervento al menisco. Pare però che i tempi di recupero subiranno un sensibile prolungamento. Il tutto nell'attesa dei nuovi arrivi che il presidente Campitelli ha ordinato per rinforzare la squadra e che vertono soprattutto attorno al centrocampo. Drudi non è vitone e si sapeva, ma è pur vero che bisogna dare tempo ai giocatori di adeguarsi e adattarsi. Il numero uno bianco-rosso ha deciso comunque di mettere mano al portafoglio e puntellare la squadra con giocatori di esperienza. Poi sarà il campo a dare le prime sentenze. Parliamo adesso delle città di Giulianova 1924. La squadra giallorossa prosegue la preparazione e domani i giallorossi sosterranno al Falini alle 17 un amichevole contro il San Nicolò. Esordio ufficiale il 26 agosto in Coppa Italia. Soddisfatto intanto il dirigente Berardo D'Antonio, uno dei fautori del progetto del rilancio dei colori giallorossi. Vediamo. Continua la preparazione della città di Giulianova 1924 in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia il 26 agosto prossimo contro la vincente tra Sant'Egidiese e Albadriatica. Intanto il dirigente Berardo D'Antonio fa il punto della situazione a quasi un mese dall'inizio della preparazione agli ordini del tecnico Angelo Pagliaccetti. La squadra potrebbe già andare bene così. Poi vogliamo proprio disquisire su qualcosa. Stiamo vedendo per un ulteriore rinforzo in difesa. Forse, forse vediamo per qualcosa in attacco. A proposito di difensore, si parla di Di Maria, un talento del calcio giuliese che era stato ceduto al Bari. State trattando? Sì, si sta allenando con noi. Un ragazzo molto valido anche perché per una categoria sarebbe un lusso. Il ragazzo sembra disposto con entusiasmo a venire a Giulianova. Vediamo se ci possiamo mettere d'accordo e potrà far parte del gruppo. Certo, per noi sarebbe un'ottima volta. E domenica prossima esordio tra i professionisti anche per l'arbitro Giuliese Antonio Di Martino chiamato a dirigere il derby di Coppa Italia Latina Aprilia. E se le squadre di calcio stanno terminando la preparazione precampionato, invece quelle di palla a mano la stanno iniziando. L'ha iniziata ieri la Tecnoelettronica Teramo in vista della nuova stagione e in arrivo anche il nuovo acquisto. Roberto Conigliaro, il servizio. La Tecnoelettronica è tornata ieri a sudare al palaggio Giobinchi in vista della nuova stagione. Una squadra ancora da completare, quella di coach Marcello Fonti, e che vedrà lunedì arrivare Vito Vaccaro e Roberto Conigliaro, una delle facce nuove della nuova stagione della Tecnoelettronica. Quest'ultimo giocatore, ex Parma, può giocare sia come pivot che come centrale a seconda delle necessità. Petras Ropenas d'altronde ha detto addio anche per questioni d'età la maglia bianco-rossa, mentre sicure riconferme saranno Paolo e Matteo di Marcello, quest'ultimo una delle grandi sorprese della passata stagione. Chiamato infatti a sostituire Pierluigi di Marcello tra i pali, il cugino Matteo non ha sfigurato, anzi. Insomma, da lunedì la stagione della Tecnoelettronica inizierà nel vero senso della parola, una stagione che ha come obiettivo, anche l'anno prossimo, quello di riconfermarsi in Serie A. E magari chissà poi cos'altro potrebbe arrivare. Ancora palla a mano, parliamo dell'HC Teramo 2002, visto il posticipo del campionato al 13 ottobre. La squadra inizierà la preparazione il prossimo 3 settembre. Vediamo il servizio. Inizierà ufficialmente il prossimo lunedì 3 settembre la nuova stagione dell'HC Teramo 2002. La formazione bianco-rossa si ritroverà in città per quella data, agli ordini del riconfermato tecnico Serafino Labbreciosa. In questi giorni la società bianco-rossa sta delineando il roster per la nuova stagione che vedrà la compagine Teramara impegnata su ben quattro fronti, campionato Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Coppa EHF. La società è attiva anche nel valutare il nome del main sponsor per il campionato e Coppa Italia dopo aver definito quello relativo a Coppa EHF e Supercoppa Italiana grazie agli abbinamenti con il centro diagnostico d'archivio archè e l'azienda Artro. Si sta lavorando anche per delineare il programma delle amichevoli e dei tornei precampionato. Contatti avviati con il club spagnolo dell'Alcobendas, prossimo avversario in Coppa EHF, per definire date ed orari degli impegni di Coppa. Quindi poi si provvederà a concordare con federazione e società interessate il date delle gare delle prime due giornate di campionato che coincidono con gli impegni di Coppa. A giorni sarà inoltre fissato ufficialmente anche la data della disputa della Supercoppa Italiana che si giocherà al Palazzo Andicolo di Teramo. A seconda degli impegni in queste tre manifestazioni verrà quindi istilato il calendario definitivo delle amichevoli e tornei precampionato ai quali parteciperà la società. Quest'anno, commenta il presidente dell'HC Teramo, Domenico Carnevale, la preparazione inizierà più tardi a causa dello slittamento dell'avvio del campionato al 13 ottobre. Gli altri anni di questi giorni eravamo già a sudare in palestra. L'essere impegnati su ben quattro fronti ci gratifica ma allo stesso tempo ci responsabilizza nel cercare di ottenere sempre il massimo, anche attraverso il reperimento di sempre nuove risorse economiche, in un momento nel quale è sempre più difficile avvicinare al mondo dello sport e della palla a mano nuovi soggetti e riconfermare quelli del passato. Proprio per questo restano di vitale importanza erradicarsi sempre più nel tessuto sociale cittadino e l'aiuto nei nostri confronti nel mondo imprenditoriale e delle istituzioni. Con lo scudetto conquistato, continua il presidente Carnevale, rappresentiamo d'altronde il fiore all'occhiello dello sport dilettantistico cittadino, provinciale e regionale. Il basket, quello dilettantistico, quello professionistico è già ormai un lontano ricordo. Dopo aver chiuso il mercato senior, la MEC Energy Roseto sposta i suoi obiettivi sugli under con la società che nei giorni scorsi ha definito gli accordi con i giovani Leonardo Corsini e Gian Giacomo De Vincenzo rispettivamente provenienti dalla MBB Brescia che nella passata stagione ha disputato il campionato di DNC Girone B e dall'Olimpia Campobasso Serie C regionale Abruzzo Molise. Adesso parliamo di basket in carrozzina, terminate da poco le Olimpiadi a Londra. Non si chiude comunque il sipario mondiale sportivo che resta aperto per i quattordicesimi giochi paralimpici estivi che inizieranno mercoledì 29 agosto con la cerimonia di apertura e si protrarranno fino al 9 settembre 2012. Per il basket in carrozzina ci sarà appunto Gagliano Marchionni, giocatore di basket che sogna di poter salire a festeggiare sul canestro di Londra all'ombra dei cinque cerchi olimpici sventolando i colori del tricolore della bandiera dell'Italia e contemporaneamente illuminare di orgoglio l'Abruzzo, la provincia di Teramo e la sua Giulianova. Bene, è tutto anche per questa edizione, vi ricordo che potete seguire tutte le nostre trasmissioni in diretta e in differita sulla nostra web tv sul sito www.teleponte.it Grazie per averci scelto, buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.